Buoni tre anni in questa sesta del convegno e un meglio non corre Special Pride, da via l'una ne rimangono in nove, corso molto aperto, Stefano, Soffio, anche Cesar Starlight più gettonati, leggermente arretrata Samuelita, con cautela Cesar Starlight numero sette, va via la macchina in velocità. Si lotta per il comando, con allargo di tutti, coglie partenza a volante Sonia Jett, ma gli rientra Signora Parr e di dentro invece Sonia D'Or, insiste Sonia Jett, 13.4 il lancio, freeway per la Jett di Vincenzo D'Alessandro Junior che spende un po', però ha completamente la piegata, va al comando. Si completano i 400 iniziali nell'ordine del 29.5, prende la via del largo Santos pedinato da Cesar, ma vengono anticipati da Signora Parr che gradatamente si presenta su Sonia Jett. 600, passa con un freeway classico, la Signora Parr ha avuto problemi Cesar, 45.4 i 600 e ora rimane Santos all'esterno e viene via Soffio e anche Samuelita. Si va al completamento del mezzo miglio in 1.9, 16.5 di frazione e di fronte sempre la Signora Condurre al largo Santos, nella cui scia è Soffio, di dentro è la Sonia Jett. 16.6 il chilometro, 500 alla meta. I tre anni ora affrontano la curva finale, amministra ancora il vantaggio la Signora. La frazione di fronte in 14.2, 1.38, i tre quarti di miglio. Viene via Soffio, rimviene anche Cesar che ha recuperato alla grande. Completamento e la curva finale, retta d'arrivo con Santos che insiste, va sulla Signora Parr, lotta tra i due, la lotta è incertissima, la Signora in vantaggio, ultimo a fondo di Santos. I cavalli sono in zona traguardo, Santos stampa, Signora Parr. Due minuti, tondo tondo ma molto tondo, 1.15, Tony Tony, Tony Tony, Tony Young e ha messo alla finale con una guidata da par suo. Fa tutto l'omino, fa tutto, ma ha trovato un Santos e un Tony Tony Young, veramente alla grande. Vedete le immagini di Santos che brucia proprio sul traguardo l'avversario. Andiamo un po' più avanti per il terzo, il numero due di Soffio. È tutto, linea allo studio.